Prima il sopralluogo, verosimilmente per constatare la difficoltà del colpo e il potenziale bottino. Poi il primo tentativo di scassinamento. Siamo in piazza Amendola, Palermo, l'oggetto del tentato furto e la profumeria da bene. In cinque alcuni dei quali molto giovani hanno provato ad entrare per rubare nel negozio in piena notte. E sono le immagini di videosorveglianza dell'esercizio commerciale a raccontare l'accaduto. La banda era munita di una grossa mazza con la quale uno di loro ha colpito ripetutamente ma soltanto danneggiato la vetrina della profumeria. Non riuscendo a spaccarla del tutto dunque non riuscendo ad entrare il gruppo si è allontanato rinunciando al colpo. Tutti tranne uno che per due volte da solo è tornato di fronte al negozio per completare il colpo. Visibilmente provato dalle immagini l'uomo sembra barcollare forse ubriaco. Il 45enne ha fatto altri due tentativi. Prima prendendo a colpi la vetrina con un casco poi con una grossa pietra. Tutti i tentativi però non sono andati a buon fine proprio mentre stava per arrendersi. Ecco l'arrivo della polizia che lo ha bloccato e arrestato. L'allarme della profumeria è scattato poco dopo le 5. L'istituto di vigilanza privata a cui si affida l'esercizio ha rilevato un tentativo di intrusione ripreso dalle telecamere e ha contattato le forze dell'ordine. Così in poco tempo sono intervenute alcune pattuglie del commissariato centro e dell'ufficio prevenzione generale. Adesso le indagini per rintracciare anche i quattro complici del 45enne. Grazie. 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 Grazie.